Antonelli, nelle ultime ore lei e il Consiglio Comunale ha chiesto le dimissioni dell'amministratore unico di Attiva Massimo Papa, perché? Intanto l'intero centrodestra l'ha chiesto, l'intera opposizione centrodestra in Consiglio Comunale ha ritenuto che nel corso degli ultimi mesi in particolare ci siano state svariate attività assolutamente censurabili e criticabili da parte nostra, ma non solo da parte nostra, anche da parte di tanti consiglieri comunali di maggioranza. Faccio riferimento al piano tariffario della Tarie per il 2018, che era completamente sballato e che siamo stati costretti a rifare da capo in Consiglio Comunale. La vicenda delle assunzioni due giorni prima della sentenza della Corte d'Appello, che ha messo di fatto in mezzo alla strada 18 lavoratori con le rispettive famiglie, e questa era una cosa che si poteva tranquillamente evitare, e poi anche il tentativo di non pagare gli stipendi del mese di febbraio a quegli stessi lavoratori, generando un problema di carattere sociale, conflitto in Consiglio Comunale che non si è potuto neanche tenere lo scorso 15 marzo. Insomma, una gestione complessiva che dal nostro punto di vista merita di essere censurata e in quanto censurata anche di immaginare un percorso che porti alla sostituzione dell'amministratore unico, le cui attività francamente non possono essere ricondotte a una valutazione positiva da parte del Consiglio Comunale. Assessore Paola Marcheggiani si è schierata però al fianco dell'amministratore di Attiva, dicendo che ha lavorato bene negli ultimi anni. L'assessore Marcheggiani si occupa poco delle questioni di Attiva, tanto è vero che ha portato in aula un piano tariffario che neppure lei conosceva, quindi quella dell'assessore è evidentemente una difesa d'ufficio, ma come tutte le difese d'ufficio è assolutamente debole perché non supportata da fatti concreti. La gestione di Attiva di questi ultimi anni è una pessima gestione. La città è più sporca, la Tari è aumentata, i lavoratori sono in mezzo a una strada, francamente non credo che ci sia bisogno di aggiungere altro per dare un giudizio critico e quindi negativo su chi ha amministrato in questi anni la società.